amici bentornati sul canale 9 mila giri elaborazioni autosportive oggi abbiamo qui una macchina che raramente ci capita ce ne saranno capitate due o tre nel corso degli anni perché sono macchine molto particolari è la coupé sportiva la più sportiva della di casa audi un r8 questa è in versione 4002 motore aspirato il dettaglio dell'aspirato lo si è un vuoto aspirato e lo si deduce dal fatto che manca la t prima della sigla fsi se fosse stata turbo avrebbe appunto avuto t fsi questo quindi è un motore aspirato quindi il fatto che abbia una potenza di 430 cavalli sviluppato con un motore da 4.200 aspirato direi che è un dato molto molto interessante cioè di solito appunto potenze di questo genere si ottengono nella grande maggioranza con vetture turbo ormai gli aspirati sono quasi in via di estinzione e il fatto appunto di avere una macchina di questo genere con una potenza è così elevata e anche il piacere di guida devo dire nonostante che io diciamo solitamente guidi macchine turbo il piacere di guida di avere una macchina potente con un motore aspirato direi che è impagabile quindi sicuramente una macchina da tenere anche a livello per dire collezionistico ovviamente sono macchine molto impegnative a livello di gestione a livello di costi questo è pacifico però una macchina veramente molto molto particolare su questo non ci sono dubbi quello che sostanzialmente questo cliente ci ha chiesto la prima cosa da fare siccome non ha pochissimi chilometri e soprattutto ha già un po di annetti sul sul gruppone perché la macchina del 2012 quindi a una decina d'anni c'è chiesto appunto di fare il servizio di decarbonizzazione con idrogeno ricordiamo appunto che è un sistema che immette idrogeno nel condotto di aspirazione quindi si sganciano in questo caso sono due condotti aspirazione perché essendo un motore a v ovviamente sono due adesso mirco apre il vano motore così magari capiamo un po meglio di cosa stiamo parlando quindi questi sono i condotti di aspirazione bisogna ripetere l'operazione ovviamente per la bancata sinistra e poi per la bancata destra perché ovviamente non ha un unico condotto quindi viene immesso idrogeno con un sistema diciamo calibrato da una apparecchiatura fatta apposta la macchina va tenuta in moto e per chiudere il ciclo della pulizia per ogni pulizia va tenuta in moto la macchina almeno un'ora quindi questa macchina qua sta in moto due ore perché prima abbiamo fatto una bancata abbiamo fatto quell'altra in sostanza l'idrogeno entra in in aspirazione viene conviene combusto unitamente alla benzina e va a pulire in maniera molto lenta molto graduale ma nell'arco di un'ora il ciclo di pulizia viene completato pulisce perfettamente tutto quello che è il diciamo la parte alta del motore quindi testa valvole cielo del pistone e poi tutta la parte in questo caso non c'è la turbina se avesse la turbina anche la turbina eventualmente il fap quindi cose che questa macchina non ha comunque diciamo che tutta la parte di aspirazione combustione viene praticamente riportata a nuovo abbiamo fatto un po di tempo fa questo lavoro già detto in una puntata precedente un esperimento con una termocamera entrando finito il lavoro all'interno di un cilindro e abbiamo potuto verificare che il cielo del pistone era ritornato lucido come come quando è stato montato in fabbrica il durante la produzione quindi devo dire un sistema estremamente efficace va a togliere praticamente il paragone può essere quello di di togliere il codice di fare una cura per il colesterolo quindi di togliere via quelle che sono le impurità che anche sul motore benzina chiaramente motore benzina rispetto al diesel a livello di combustione e di fumi e di morchie ne ha meno rispetto al diesel però comunque se una macchina fatto tanti chilometri poco tanto che sia dello sporco comunque l'accumulato anche solo sulle farfalle di aspirazione questa è una cosa che si fa anche manualmente tante volte il minimo irregolare per esempio cosa si fa si sgancia la il condotto di aspirazione si arriva alla farfalla si pulisce la chiusura della farfalla dove ogni tanto troviamo veramente di tutto la farfalla non chiudendo bene ovviamente butta dentro una quantità di aria anomala ovviamente lì si sballa al minimo si sballa la carburazione cioè quindi anche i motori benzina comunque soffrono di sporcizia la benzina stella qualità della benzina stessa di ultima generazione anche del gasolio purtroppo non è certo è peggiorata non è certo delle migliori rispetto anni fa la qualità dei carburanti anche in questo caso è peggiorato quindi il fatto di pulire integralmente fino ad arrivare a espellere quelle che sono quello che è il residuo dalla parte finale dello scarico direi che un'ottima soluzione ovviamente non per macchine che hanno 10 15 mila chilometri ma già una macchina che ha 70 80 mila chilometri la differenza tra il primo e dopo si sente in maniera notevole si vanno a recuperare in sostanza una parte dei cavalli che con questo tipo di di problematiche si perdono quindi non è che guadagnavo dei cavalli in più andiamo a recuperare dei cavalli che viceversa avevamo perso e questo per quanto riguarda il discorso della manutenzione straordinaria altri lavori particolari su questa macchina ovviamente il classico tagliando oli e filtri che noi consigliamo di fare su macchine così performanti consegniamo di fare non oltre 10.000 chilometri nei limiti del possibile anche se si usa poco anche una volta l'anno anzi addirittura meno si usa la macchina è più teoricamente necessario sostituire l'olio perché l'olio ovviamente si rimanendo fermo con il diciamo il vaporeacuo che si forma all'interno del del motore chiaramente si va a deteriorare per quanto riguarda le le caratteristiche chimiche dell'olio quindi la gente magari fa una valutazione esattamente opposta ma se una macchina fa veramente mille duemila chilometri all'anno è più opportuno cambiare l'olio ogni anno rispetto a una macchina che ne fa 10 15 mila perché ovviamente usando il motore chiaramente questo tipo di discorso di morche di depositi si accumulano di meno altro lavoro che abbiamo fatto sempre a livello di tagliando pastiglie nuove sportive montate su dei dischi che sono già sportivi di serie ovviamente una macchina che questa macchina fa oltre 300 all'ora e ha una ripresa di 4 secondi e 6 per cui mi ricollego al discorso era fatto inizialmente un aspirato che ha un'accelerazione di 4 secondi e 6 e va oltre 300 all'ora direi che ce ne sono poche si possono contare sulle dite di una mano perché tutte le altre sono tutte turbo quindi la tendenza poi diciamo per normativi antinquinamento da qualche anno a questa parte saranno proprio in maniera vincolante tutte turbo quindi direi che altri lavori nel primo momento non abbiamo fatti ci tenevamo appunto a farvi vedere una macchina un po fuori dal coro diciamo come come si suol dire perché è una cosa che non capita tutti i giorni direi anche per questa audi r8 4.2 v8 è tutto per qualunque genere di informazione come di consueto ci potete contattare in sede vi invitiamo a consultare il sito www 9 milagiri.it soprattutto nell'archivio elaborazioni così imparate e consultandoli imparerete tante nozioni tecniche perché ci sono veramente più di 3600 schede vettura non finirete più di consultarla perché sono veramente tante e da lì potete estrapolare veramente una molteplicità di lavori veramente molto molto interessante cliccate sulla campanella e soprattutto vi invitiamo a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo un saluto alla prossima